Salve a tutti, in questo video vediamo come bloccare i numeri sconosciuti su iPhone. Quindi cosa vuol dire? Che qualsiasi numero non sia nella nostra rubrica non riuscirà a chiamarci e verrà inoltrato alla segreteria. Allora, andiamo nelle impostazioni e andiamo alla voce telefono in basso, questa. Adesso dobbiamo fare tappe in basso su silenzio e numeri sconosciuti. Ecco fatto, quindi assicuratevi di avere in rubrica tutti i numeri che vi servono perché poi dopo non riuscirete a ricevere la chiamata. Vi basta abilitare con un tap questa impostazione. C'è scritto sotto, le chiamate provenienti da numeri sconosciuti non verranno ricevute e verranno inoltrate automaticamente alla segreteria telefonica. Il numero verrà visualizzato nell'elenco delle chiamate recenti. Le chiamate provenienti dalle persone nei tuoi contatti, dalle persone nelle chiamate in uscita recenti e dai suggerimenti di Siri continueranno a essere ricevute. Ora, cos'è che mi piace di questa funzione? Che se voi fate una chiamata a un numero di emergenza, iPhone lo capisce e vi disabilita questa funzione per 24 ore. Questo perché è necessario magari ricevere aiuto. Quindi, ottima, ottima cosa. Ovviamente per disabilitarlo basta tornare qui e togliere l'abilitazione. Spero di essere stato utile. Un saluto. Spero di essere stato utile.